Domenica 29 marzo torna Politicamente Scorretto, con uno speciale contro tutte le mafie. L'etica libera la bellezza. Oltre alla cerimonia di lettura delle vittime di mafia, reading, performance artistica e laboratori per bambini. L'etica libera la bellezza. Domenica 29 marzo dalle 10 alle 20 alla Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno.